Siamo contenti, sono contento anche a livello personale perché queste soddisfazioni non me le tolgo spesso, quindi mi godo questo momento, sono contento che ero prima di Natale, così ho più giorni per godermi questa partita. Io ero, secondo me sono quelle partite che sono vinte già dall'inizio perché noi eravamo veramente motivatissimi, ci siamo allenati benissimo in settimana e abbiamo dimostrato sul campo di essere prima che giocatori uomini, siamo felici e ci godiamo questa vittoria che per noi è importantissima.